Maltrattamenti in famiglia. I carabinieri di Appiano Gentile hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un marocchino 44enne di Lurago Marinone. L'uomo è accusato di aver maltrattato ripetutamente la moglie nel mese di marzo. Minacce, ingiurie e vessazioni di vario genere che avrebbero causato alla donna uno stato d'ansia e di paura. Le indagini sono scattate proprio da una querela della moglie. L'uomo non potrà dimorare nel comune di Lurago Marinone e non potrà avvicinarsi alla moglie.